o la rockers volete imparare a suonare l'armonica blues siete nel posto giusto io sono stefano lucignolo e sul mio canale troverete tanti video dedicati al magnifico mondo dell'armonica blues tutorial video descrizioni esercizi insomma tutto quello che vi serve per sviluppare il vostro suono se poi volete approfondire ancora di più l'argomento vi invito a fare un salto sul mio sito stefano lucignolo puntocom potrete così vedere il videocorso oppure prenotare una lezione online privata direttamente da me se siete amanti invece del materiale cartaceo vi ricordo che è uscito anche il mio manuale armonica blues istruzioni per l'uso lo troverete in tutti i negozi di musica d'italia e sui migliori store online che dire vi aspetto buone armonicate ciao